La saga di John Wick ha cambiato drasticamente il modo di fare cinema action, da le diverse scene d'azione con la regia frenetica e piena di piani di sequenza che seguono le sparatorie e i diversi combattimenti, fino al modo di raccontare il protagonista. Il personaggio interpretato da John Wick nella riprova diventato simbolo della cultura pop in me che non si dica, dando vita ad altre saghe, ad altri film che si ispirano moltissimo al suo modo di realizzare i personaggi. Con il quarto capitolo probabilmente abbiamo dato l'addio al personaggio di John Wick perché, come sappiamo e come abbiamo potuto vedere dal film, nel finale della pellicola diretta da Chad Stahelsky, John Wick viene ucciso e quindi saluteremo definitivamente il personaggio. Ma non tutto è definitivo, come sappiamo, perché inizialmente i programmi erano di fare cinque film sulla saga dell'assassino bielorusso. Quindi John Wick potrebbe tornare, come dichiarava lo stesso Keanu Reeves, ad una sola condizione, ovvero Chad Stahelsky alla regia. Proprio Stahelsky, infatti, è l'autore del grande successo, principalmente lui, di John Wick. La sua regia frenetica, come detto, ha cambiato il modo di approcciarsi alla saga. Ma che altro sappiamo di questa saga che ha cambiato in modo definitivo il film d'azione? Fino ad oggi non abbiamo nessuna traccia e nessun rumore riguardanti un quinto possibile capitolo di John Wick, ma sicuramente i fan non rimarranno delusi, in quanto avremo due altri prodotti dedicati alla saga di Wick e dei mercenari assassini, ovvero una serie che racconta lo spin-off e la nascita della linea di alberghi nella quale gli assassini vanno a rifugiarsi, ovvero il The Continental, e un film spin-off con protagonista Anna DeArmas, ovvero ballerina. Ma di cosa parlano questi prodotti e come si legheranno a John Wick? Come sappiamo, il principale degli alberghi di The Continental è quello di New York, andato distrutto durante il quarto capitolo del film di John Wick. Qui troveremo un giovane Winston Scott, che nel film è interpretato da Ian McShane, e un giovane Sharon, il suo consierge dell'albergo, interpretato dal compianto Lance Riddick. Logicamente saranno giovani, quindi ci saranno due attori differenti, ma a cui vedremo negli anni 70 lo sviluppo e l'espandersi degli alberghi nel mondo. Recentemente sono stati dati alcuni dettagli della serie TV. Innanzitutto la produttrice della serie ha sottolineato come c'era la necessità di ampliare il discorso sul Continental e cercare di raccontare di più sull'albergo, sul funzionamento di questa linea di hotel che vanno ad aiutare gli assassini e come si entra a far parte di questa particolare categoria. Quindi molto interessante per i fan della saga sapere anche come vengono sviluppati i personaggi e come, alla fine, tutto si viene a legare, perché è un prequel della saga di John Wick e probabilmente ci saranno molti riferimenti ai film. Ricordiamo che la serie su The Continental avrà tre episodi da 90 minuti ciascuno legati tutti quanti, senza salti temporali, senza perdite di tempo e come tre minifilm ne vedremo delle belle probabilmente. Un giovane Ian McShane sarà interpretato da Connie Woodell mentre Sharon sarà interpretato da Odowin Adegun. Mentre il film prequel che arriverà nei cinema il 7 giugno 2024, ovvero Ballerina, vedrà nuovamente Keanu Reeves nel cast vestire i panni di John Wick e Anna De Armas sarà la protagonista della pellicola. Probabilmente ci saranno alcuni collegamenti con il film in quanto, appunto, c'è Keanu Reeves nel cast, quindi rivedremo John Wick e sappiamo che la ballerina del film ha frequentato la stessa scuola di arti marziali e tecniche di sopravvivenza che ha frequentato poi John Wick, quindi è la stessa maestria e la stessa grande volontà e forza nello sparare e nell'uccidere. Questa sarà anche l'ultima apparizione del compianto Let's Read Dick scomparso il mese scorso nei panni di Sharon. Un film che probabilmente inizierà a far capire quale sarà il futuro della saga di John Wick perché se questi spin-off andranno bene probabilmente ne arriveranno di gli altri e questi avranno successo, altrimenti si punterà probabilmente sul quinto capitolo di John Wick. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere mi piace al nostro canale YouTube, seguiteci sui nostri canali Instagram e Facebook e io vi rimando al prossimo video e alla prossima live da Valerio Perrone e da Ciaccazione. Buona giornata!